La Camera di Commercio di Novara non smetterà mai di stare a fianco delle imprese e del loro assoluto bisogno di sopravvivere. In questo contesto che si inserisce l'iniziativa di stamattina, che facciamo insieme a un'altra istituzione che è la provincia di Novara, che ha analogo a volontà ferma come quella che ho appena espressa, proprio perché la difficoltà delle imprese è quella di ottenere il pagamento soprattutto dalle pubbliche amministrazioni che in questo caso, quando non pagano, diventano matrigne. Noi col fondo sblocca crediti avevamo già stanziato per il Piemonte 10 milioni, la nostra piccola Camera ci ha messo quasi un milione e mezzo a disposizione proprio per favorire i pagamenti che vengono quindi anticipati dalla Camera di Commercio alle imprese che hanno crediti dalle comuni, dall'ente locale, il Comune. In questo momento, stamattina, annunciamo a Urbi e Torbi che l'iniziativa vale anche con la provincia, nel senso che tutte le imprese che soprattutto per questioni di viabilità o di sgombero neve o altre attività che hanno nei confronti dell'amministrazione provinciale che per i noti motivi delle norme governative vigenti non possono magari pagare pur avendo i soldi, ottengono il pagamento anticipato dalla Camera a costo zero. Però sia chiaro che è a costo zero. Allora per un anno abbiamo la capacità quindi di mettere a finanziare le fatture impagate anche della provincia qualora ci fossero e noi invitiamo le imprese a farlo perché anche una piccola iniezione può servire a dare qualche sorriso in più invece di qualche lacrima in più. La vicenda ha un limite fino a 50 mila euro però credo che 50 mila euro anche per un'impresa medio grande non siano da disprezzare. È un'ulteriore iniziativa che la Camera in questo momento in collaborazione anche con la provincia si muove a realizzare proprio nell'intenzione massima di avere meno morti tra le imprese. Le modalità essenziali sono rivolgersi innanzitutto a un'agenzia Unicredit visto che Union Camere ha fatto un accordo con la nostra banca per poter andare incontro alle necessità di quelle imprese che hanno dei crediti da smobilizzare e che siano crediti quindi scaduti e che le amministrazioni ci certificano essere pagate nei 12 mesi successivi. quindi devono apporre questa certificazione. Quindi l'iter operativo è per noi piuttosto semplice in quanto la bancabilità dell'operazione sicuramente ci deve essere e l'impresa deve avere un grado di rating accettabile sufficiente. Dopodiché, valutato questo, noi siamo nel giro di pochissimi giorni in grado, presente la certificazione da parte dell'ente, di erogare l'anticipazione. L'anticipazione viene fatta fino a 50.000 euro a valere su fondi Union Camere pertanto non ha nessun costo aggiuntivo per l'impresa e noi come Unicredit ci siamo impegnati a non porre delle condizioni di conto onerose per cui il conto è completamente gratuito anche per i non clienti, questo lo sottolineo. Dai 50 ai 100.000 euro è possibile un intervento diretto anche da parte della banca a una condizione estremamente vantaggiosa e concordata con Union Camere che è uno spread uguale per tutte le classi di rischio di 3,50% di spread oltre i 100.000 euro invece essendo comunque fondi interamente banca la contrattazione è riservata e personalizzata per ciascun cliente. Sicuramente io tengo a precisare una cosa che è piuttosto facile accedervi se il credito è certificato e certificabile per tutte le piccole e medie imprese perché questa è un'altra caratteristica essenziale che deve essere una piccola e media impresa. L'importante è rivolgersi ai nostri sportelli della provincia di Novara nella fattispecie per ottenere le giuste informazioni. Quindi invito tutte a informarsi che è la cosa essenziale in questo caso.